ma quali pause brodini in questi giorni si continua a mangiare senza soste un po' per finire le cose che sono avanzate un po' perché si sta insieme a casa e quando si sta insieme a casa che fai qualcosa non lo prepari per allietare la compagnia quindi la cena della vigilia di capodanno e il pranzo del primo gennaio diventano una buffata supplementare a cui non si può rinunciare ma che certamente porterà ad altri inevitabili aumenti di peso fortunati quelli del metabolismo accelerato atteniamoci sempre alla tradizione partendo dal cenone della vigilia che sin dagli antichi romani deve prevedere pietanze che in un certo modo siano sinonimo di prosperità e fortuna ecco perché si scelgono alimenti che somigliano in qualche maniera alle monete durante il cenone di san silvestro quindi non possono mancare le lenticchie che vengono cucinate in vari modi anche perché proliferano gli chef gurmettari che si inventano di tutto e di più noi restiamo fedeli al pezzettino di cotechino o salsiccia per chi il cotechino proprio non riesce a farlo scendere giù cucinati con le lenticchie in umido lenticchie che sono dunque il contorno immancabile per il cenone del 31 dicembre ovviamente il cotechino o il salsiccione grassoso in stile partenopeo vengono sostituiti salendo di un centinaio di chilometri dallo zampone nordista oppure dallo stinco di maiale se fossimo nel veneto in friulio in trentino a cotechino lenticchie un bicchiere di lambrusco oppure di prosecco vanno presentati allo scoccare della mezzanotte questo è importante in precedenza il cenone della vigilia è immaginato in campagna da un antipasto fatto di bruschette con formaggi misti e salumi poi si passa un primo che solitamente può provvedere lo spaghetto macchiato con frutti di mare o per chi vuole stare più tenere un risotto molti anche in campagna scelgono poi tortellini in brodo che però sono usanza tipica del nord prima del cotechino con le lenticchie si passa ai secondi con il polipo o il baccalà mentre per chi preferisce carne l'arrosto qualche pezzettino di agnello al forno frutta secca chicchi di melograno oppure uva cibi porta fortuna e lenticchie con cotechino infine chiusura per festeggiare con panettone pandoro oppure con i dolci della tradizione campana mostaccioli e rococò su tutti città